Siamo con Claudio Croce, sta per partire questa nuova avventura, tra l'altro i beni informati mi dicono che il tutto è partito proprio da te, dalla Curi Pescara. Grazie, ma diciamo che non è partita solo da me, noi siamo un gruppo di persone e di amici che stanno cercando di portare avanti il discorso calcio da diversi anni e nell'ultimo anno abbiamo avuto la fortuna di iniziare un nuovo progetto con Quintino Paluzzi che è il patrono storico del Fino Flacco Porto e insieme a lui adesso sono nati altri discorsi per cercare di rendere la nostra società sempre più forte, soprattutto cercando di mettere all'interno delle persone che amano il gioco del calcio, il mondo del calcio e da qui sono nati altri discorsi di cui se vuoi accenniamo qualcosa. Sì accenniamo qualcosa perché di solito i matrimoni si fanno in due, già quelli sono complicati, ora voi ne siete tre, potrebbe essere questo un matrimonio complicato o vedi zero nuvole all'orizzonte, solo un sole come quello che oggi accompagna e illumina il parco, il giardino e la piscina di Quintino Paluzzi perché siamo ospiti da lui proprio. Sì, allora noi siamo tutti quanti ottimisti perché abbiamo fatto alcuni incontri con i nostri cari amici Gabriele Bancoschi e Sergio Spinelli che sono le due persone che hanno portato avanti per tantissimi anni la società Renato Curiangolana SRL società nella quale anche io ho collaborato per diversi anni, ormai 7-8 anni fa ma almeno per 7-8 anni ho collaborato con loro e adesso dopo alcune vicissitudini si sono creati i presupposti per fare un unico progetto e riuscire a riunire le società Renato Curi che si erano in qualche modo divise in passato e soprattutto far nascere e far riniziare una collaborazione tra due comuni importanti come Pescara e Città Sant'Angelo dove il calcio direttantistico e il settore giovanile ha sempre avuto un'importanza fondamentale. Claudio, ovviamente ora partiranno non solo le riunioni finali per sancire il tutto ma si dovrà necessariamente pensare alla stagione prossima. È appena finita l'ultima ma sta per cominciare quella del 2022-2023 da quello che ho capito ci sarà una forte sinergia non solo per la prima squadra ma anche per quello che riguarda il settore giovanile ci saranno compiti per ognuno oppure ci sarà un capofila che gestirà il tutto? No, allora è una collaborazione ampia qui non è che c'è un padrone o un presidente gli altri sono sottoposti alle direttive di questo soggetto no, siamo tutte persone che come ho detto prima amano il mondo del calcio e ognuno con le proprie responsabilità, i propri compiti cercheremo di portare avanti questo progetto sicuramente unendo le forze riusciremo a incrementare i punti scuola calcio sia a Pescara che a Città Sant'Angelo il settore giovanile continuerà ad essere, a sperare di essere il fiore all'occhiello della nostra società continueremo a partecipare a tutti i campionati regionali giovanissimi under 15, under 17, under 19 sia in età che sotto età e il tutto servirà per far crescere i ragazzi e portarli nella nostra unica prima squadra che appunto sarà una prima squadra che vedrà unite le forze dell'imprenditore Quintino Paluzzi dell'imprenditore Gabriele Bangoschi e del commerciista Sergio Spinelli che potranno anche usufruire del nostro aiuto, del gruppo che da sempre è insieme a me Claudio, da quello che ho capito il nome l'avete già scelto sarà il Delfino Curi Angolana così da abbracciare le tre entità che stanno per sposarsi utilizzo ancora questo termine avete già scelto il campo dove ospitare ovviamente le vostre avversarie nella prossima stagione o ci sono altre possibilità oltre ovviamente a Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo? Allora l'idea è sicuramente quella di giocare a Città Sant'Angelo con la prima squadra dove c'è appunto uno stadio, non è un campo, uno stadio che ha ospitato anche la Serie D e quindi l'idea è di giocare lì naturalmente alcune partite potrebbero essere fatte anche a Pescara perché comunque a Pescara continuiamo a sviluppare tutto il discorso del settore giovanile perché i numeri, diciamo la maggior parte dei ragazzi che fanno calcio comunque sono della zona di Pescara e dintorni sicuramente Pescara sarà il punto di riferimento per gli allenamenti del settore giovanile e la prima squadra ma anche alcune categorie del settore giovanile potranno tranquillamente giocare a Città Sant'Angelo come già è successo anche quest'anno dove la nostra squadra per altre vicissitudini ha dovuto giocare in vari campi di vari comuni Con Roberto Paluzzi sta per partire una nuova avventura ma il Presidente Paluzzi a casa come si comporta in questi giorni? È euforico, è euforico come sempre dopo questa buona novità, questa super novità l'unione di realtà che comunque da diversi anni si muovono nel massimo campionato regionale con degli ottimi risultati fanno bene tutti gli anni non può che generare entusiasmo È una passione tramandata immagino ma tra qualche tempo, tra qualche anno non voglio andare a scandagliare la questione anagrafica di tuo papà ma ci sarà il passaggio di mano il testimone che passa dal babbo al figlio? No, guarda, speriamo non venga mai perché lo vedo divertirsi come un matto ogni anno, questo è l'ultimo credo che sia vicino ai 30 anni di associazione e quindi ogni anno si rinnova la sua passione spero non arrivi mai So che sta arrivando anche il terzo figlio se non sbaglio Il quarto Ah, il quarto Siamo da fare anche Ecco, perfetto Quindi da qui a qualche anno una squadra di calcio sarà quasi completamente tua Ci riusciamo, ci riusciremo A casa di Quintino Paluzzi innanzitutto grazie per l'invito perché in pochissimi minuti abbiamo organizzato questa breve intervista Tante considerazioni fatte anche con Claudio Croce l'entusiasmo di Quintino Paluzzi perché abbiamo parlato di matrimonio sei stato per una vita single, no? Da solo in società e ora ti tocca una coppia ti toccano due società davvero importanti ecco, l'entusiasmo che provi e soprattutto le emozioni perché ti vedo visibilmente coinvolto È fortissimo, è fortissimo non c'è spiegazione Tanti anni mi giravo e ero solo in qualsiasi situazione non avevo nessuno è passato quasi 20-25 anni adesso di colpo conoscendo l'anno scorso Claudio come dicevi abbiamo fatto un piccolo fidanzamento è durato un anno ma matrimonio completo lo stiamo facendo adesso Qualche giorno per le fatidiche firme per mettere effettivamente nero su bianco Quintino, lo ripeto dalla prima telefonata fino a questo incontro ho percepito tanta emozione tanta forza ti sei rinvigorito, no? perché grazie agli amici ovviamente avevi bisogno di uno stimolo in più Certo, tantissimo però le firme non c'entrano niente la parola dell'uomo è una noi con Claudio c'era un accordo che ci incontrevamo con Bangoschi e Spinelli loro ci aspettavano proprio a braccia aperta quando siamo arrivati siamo abbracciati già tutto fatto Dottor Bangoschi è occupato l'abbiamo chiamato l'abbiamo contattato per correttezza io personalmente ho voluto ascoltare la sua voce non per conferma ma anche per avere una sorta di autorizzazione a parlare a suo nome che cosa ci puoi dire? Di Bangoschi mi dice Presidente fai tu fai tu quindi fai tu a me va bene tutto io stavo lasciando lui stava lasciando insieme con Claudio che non so che c'ha di bello che è un avvocato è riuscito a fare questo ma è favoloso io solo a pensare che adesso c'ho altri a livello io mi sento piccolo piccolo Quintino anche se pesi 120 kg però capito a sentirmi con Claudio a sentirmi che Martorelli fa parte di me Serie A che io non so neanche Bangoschi Vice Presidente del Pescara e stare con questi qua per me mi ridà tanto vigore il Delfino è lo sponsor il Delfino è Pescara il Delfino è la squadra Pescara perciò ci sta benissimo il Delfino cure angolana